Sì perché il governo sta lavorando rispetto alle richieste che avevamo proposto e noi come disse la volta precedente ci auguriamo di trovare una soluzione condivisa per poter dare l'intesa favorevole e quindi secondo che sono ancora un po' di giorni utili continuiamo a lavorare, a discutere, a trattare e la prossima settimana spero, penso sia quella decisiva. Mi auguro, ci auguriamo ovviamente che si trovi un ragionevole accordo perché ad oggi le condizioni per dare l'intesa favorevole non ci saranno.